Si ripete dopo 13 anni l'appuntamento con il Festival del Camminare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Walking Festival, un regalo di benessere e un'occasione di vacanza all'aria aperta nelle isole toscane, al di fuori della stagione balneare. Il Festival inizia con la festa di primavera il 20 marzo a Mola, in occasione di quella organizzata dal Legambiente Arcipelago Toscano, che proporrà un evento sugli uccelli migratori, animali straordinari capaci di percorrere migliaia di chilometri per proteggere il futuro della propria specie, che trovano nelle nostre isole un importante punto di sosta e ristoro. La giornata sarà dedicata anche agli insetti caratteristici dell'area, poi una visita guidata della zona umida di Mola e un workshop. Il ritrovo è all'oro 15 nell'Aula Verde e Blu a Mola. L'evento su prenotazione è gratuito. Nelle altre isole Pianosa e Giglio e Capraia il Festival inizierà a metà aprile e il programma è già visibile sul catalogo 2022 di Vivere il Parco. Prenotare è obbligatorio e si può fare chiamando l'Infopark allo 0565 908231 o direttamente online sul sito del Parco nella sezione Infocalendario.